Sono giorni di assestamento, al di là di qualche emergenza, questa è una fase propedeutica al lavoro amministrativo vero e proprio. Queste le parole del primo cittadino di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli, che alle amministrative del 25 maggio ha battuto il candidato Fabrizio Ceccarelli raggiungendo il 63,94% delle preferenze. A breve partirà la raccolta differenziata, prosegue Micarelli, il cui avvio è stato rimandato negli ultimi mesi mentre rappresenta una delle nostre priorità. E sulla polemica nata in seguito alle dimissioni degli assessori e all'entrata di tre consiglieri non eletti, polemica che continua ad animare il dibattito all'interno del comune Sabino, il neosindaco è categorico. Si tratta di polemiche strumentali e assolutamente gratuite, è uno strumento di democrazia. È vero che nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti la carica di assessore è compatibile con quella di consigliere, ma Poggio Mirteto offre un bacino di servizi che si rivolge a oltre 20.000 persone. C'è bisogno dunque di molta gente ed è un'occasione per spronare assessori e consiglieri a fare meglio, ad essere più motivati e ad essere maggiormente presenti sul territorio. E comunque i consiglieri riceveranno un'indennità minimale di poche centinaia di euro, compensata con una diminuzione dell'indennità dell'intera giunta.